E te che ci stai a fare sul letto mio? E adesso qua ci dormo io. Solamente pane con l'acqua e lo zucchero. Che ci dà il cogliezzo? Vuoi ritornare a casa? Vuoi provare? Vedo dove metto quei bacchetti. Oh, ma che si scelta? Ciao. Ciao. Ah, ci fai non fai? Ma perché io non ti piaccio? Perché sono fascista. Invece lui ti piace perché è comunista. Marco mi piace perché è Marco. Ciao. 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 Ciao.